E si avvicinano sempre di più le presidenziali americane, quindi sulle fonti tv come ben sapete è un argomento fisso e costante, soprattutto quando ci sono degli elementi che ci portano a riflettere su quello che avverrà. Uno di questi elementi è sicuramente il confronto tra i due sfidanti, l'attuale presidente americano Donald Trump e Joe Biden, che ieri si sono confrontati a distanza. Alan Friedman, ben trovato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, partiamo proprio da qui ovviamente, un confronto a distanza che però ha visto, così come ho titolato nella nostra grafica, ancora una volta uscire Trump un po' sconfitto, un po' deboluccio. Cosa ne pensi? Quali sono stati i momenti salienti secondo te? Io credo che Donald Trump sia in caduta libera in questa fase della sua vita e della campagna elettorale. Ieri è stato sconfitto, si è fatto un autodoffè, un suicidio politico l'ennesima di apparire un pazzoido davanti al popolo americano. Prima Trump ha declinato, rifiutato il secondo dibattito perché avendo Covid la campagna Biden ha chiesto se si potesse mettere una partizione di plexiglass e lui ha detto no, no, no. Ha cancellato, annullato il secondo dibattito. Dopodiché Biden si è messo con ABC e Biden ha condotto una serata presidenziale, pacchetto, serio, rispondendo alle domande dei cittadini, proprio molto tranquillo e molto serio. Mentre Donald Trump con NBC aveva la mia collega Savannah Guthrie che è una giornalista donna forte, ricordiamo che Donald Trump ha difficoltà con le donne forti e Savannah ha spinto lui, ha detto quando si è andato l'ultima volta al dibattito con Biden, eri negativo o positivo con Covid e Trump ha rifiutato di rispondere. Poi ha chiesto perché ha rituitato, Presidente, l'idea da complottisti, di estremisti, di QAnon, che Joe Biden ha fatto fucilare gli eroi che hanno ucciso Bin Laden e che Obama non ha mai ucciso Bin Laden, era tutto come una visita alla Luna finta, cioè i complottisti. E Trump ha risposto, eh, perché poi la gente può decidere se veramente Obama ha ucciso Bin Laden o meno, che è una pazzia ovviamente. E il giornalista finalmente ha detto quello che tutti gli americani pensano, ha detto in faccia al Presidente, ma lei sarebbe il Presidente degli Stati Uniti e non il zio rincoglionito di qualcuno. Come si può parlare così? Quindi, momento clou in cui Trump ha fatto una figuracce e credo che a questo punto c'è una vera possibilità che Biden andrà verso una vittoria schiacciante. Non è finito, i sondaggi non sono sempre giusti, ci sono ancora due settimane, ma se Trump continua così, Trump si farà harikiri, si farà suicidio politico, perché sta dicendo le pazzie, le non-senso. Ogni giorno sembra veramente un zio pazzo un po' al buziente. Ecco, Alan, io ho proprio mostrato, l'avrei fatto, ma insomma, mentre tu ci parlavi il tuo tweet, che è proprio scritto su questo, su questa dichiarazione che ha fatto Trump e la risposta della giornalista, lo vediamo, ha difeso l'idea che l'uccisione di Bin Laden sia stata una messa in scena, appunto Savanna Gattri ha detto, insomma, che diavolo sta dicendo? Questo è un po' stata la reazione. Ma ecco, tu giustamente hai detto una cosa, Alan, mancano due settimane, quindi tutto può ancora succedere. Potrebbe, potrebbe, usiamo il condizionale, favorire Trump la riuscita del pacchetto di aiuti, di stimoli all'economia americana, perché sappiamo che è un po' in stallo, però a quanto, insomma, trapela dal segretario del tesoro americano, Trump avrebbe detto di accelerare un po', no, questo accordo con i democratici. Se dovesse riuscire nell'intento, potrebbe giocare a suo favore? In teoria sì, e anche in realtà, un pochettino, certo, a immagine, ma due settimane prima del voto significa che già decine di milioni di americani hanno votato. Ricordiamo che in America noi possiamo votare due o tre settimane prima dell'Election Day e quindi tanti, sia per poste, sia fisicamente, tanti americani hanno già votato. Io credo che tutto può fare brodo e poi ci può essere un altro tentativo di Trump di squalificare i voti postali. Dobbiamo essere preparati per niente, per qualunque cosa, scusa, non niente, perché non c'è da escludere niente con Trump, però andando nella direzione che stiamo andando sarà molto difficile che Trump cambia la situazione e inverte la tendenza, credo. Poi vedremo, ho sbagliato quattro anni fa con Trump e Hillary, quindi dovrei essere attento anche oggi, però secondo me Trump è il suo peggiore stesso nemico. Beh, quattro anni fa non ho sbagliato in tanti, Alan, perché appunto, basandosi un po' sui sondaggi, si dava quasi per scontato che avrebbe vinto Hillary Clinton, quindi insomma è stato un po' un errore generale. Un'ultima cosa, Alan, visto che uno dei motivetti più frequenti è i mercati vogliono Trump, ti faccio la domanda inversa, cosa pensi, possa pensare Wall Street della presidenza Biden? Ma parlando proprio con amici a Wall Street, negli ultimi giorni comincio a vedere una cosa che sembra quasi italiana, perché Wall Street e i miei amici banchieri e investitori dicono, però noi preferiremo Biden e voteremo Biden se Biden sia più lucido, ma soprattutto se ci garantisce più stabilità politica, perché Trump è visto come quello che non accetterà il voto e può creare instabilità politica. Poi non si sa mai chi è dietro la politica di Trump, se sia lui o sia Putin o sia qualcun altro straniero. Io credo che Goldman Sachs e altri banchi cominciano a vedere bene un governo Biden, anche perché Biden darebbe quelli miliardi e miliardi di aiuti per le famiglie e imprese che Trump sta bloccando e Biden ha già le esperienze dell'ultima crisi di 2008, 2009, 2010, quando il governo Obama-Biden ha salvato Wall Street, ha salvato l'economia americana. Quindi secondo me, tutto sommato, c'è un cambiamento di paradigma anche qui. Si va dal, beh, Trump è stato buono per l'economia, fino a una nuova paradigma, beh, Biden sarebbe più rassicurante per l'economia. D'accordo, d'accordo. Insomma, comunque la battaglia, la sfida è ancora decisamente aperta, vedremo se... Ecco, ecco. Certo, stupisce che Trump, perché molti dicevano a ridosso del voto Trump tirerà fuori dal cilindro la carta, insomma, che a suo parere potrebbe essere vincente. Stupisce che non l'abbia ancora fatto, però appunto, visto che la battaglia è ancora aperta... Ma l'ultimo mio intervento è questo, dobbiamo renderci conto, dire una cosa che seduto in Italia sarà difficile per qualcuno che ci guarda a credere, ma Trump è un uomo disperato. Cioè lui, ieri sera, ha dichiarato in televisione 85% delle persone che portano la mascherina beccano Covid e si ammalano. E Savannah Gatby, il giornalista ha risposto a Trump, ma lei dice una falsità, Presidente, quindi siamo qui. L'uomo non sta bene. Va bene, va bene. Insomma, però saranno due settimane emozionanti, mettiamola così, Alan. Va bene, sicuramente Trump è un po' strano. Mettiamola qui, uso questa parola, in queste settimane, in queste giornate. Grazie Alan Friedman che ritroveremo sicuramente anche la settimana prossima, perché come detto saranno settimane calde, per parlare delle presidenziali americane e di vari eventuali, perché chiaramente navighiamo sempre a vista. Buona giornata. A voi, grazie. Grazie.